Assessore, le contesta la tipologia delle barriere proposte da rete ferroviaria italiana. Per quale motivo? Questo progetto di porre delle barriere antirumore lungo le ferrovie italiane e anche qui nel nostro territorio è vecchio ormai da più di dieci anni, mi ricordo ne parliamo quando ero sindaco a Fano e già allora avevamo serie perplessità perché queste barriere alte fino a otto metri di fatto in una zona come Fano, pensiamo a Gimarra, di fatto dalla frazione del centro pitano non si vede più il mare ma questo come vale per Gimarra come Fano vale per tantissime altre località litoranee tant'è che io oggi nella conferenza delle regioni alla quale ho partecipato ho espresso serie perplessità e mi hanno dato ragione anche l'assessore delle Miglia Romagna e della Puglia però poi nella votazione finale sul documento tutti si sono invece allineati su questa proposta che di fatto dà un assenso a quello che le ferrovie dello Stato vorrebbero fare io come assessore della regione Marchi invece ho votato contrario perché ho chiesto che venisse inserita una frase che permettesse di concertare regione per regione le varie tipologie di intervento invece non è stata inserita questa frase se non una raccomandazione diciamo di avere un'attenzione a seconda dei luoghi dove vengono installate non mi è bastato, adesso vediamo, speriamo che ci sia possibilità comunque di reintervenire perché io repito un intervento di questo genere sinceramente troppo fortemente invasivo soprattutto per le zone litorane che caratterizzano il nostro territorio